L'hai rifatto, è così? Hai lasciato i rubinetti aperti, vero? Tu sei picchiato, perché lo fai? Ti avevo detto di smettere. Eri, è il nostro biglietto da visita. Biglietto da visita. Tutti i grandi lasciano la loro firma. Noi siamo i banditi del rubinetto. Tu sei malato, lo sai, sì. Sei proprio malato. Non è vero? Sì, lo sai. Non sono malato. Solo uno scemo fa così. Tutte le case sono vuote. Hanno timers automatici collegati alle luci. Ma io ho calcolato tutto. Sta a vedere. Il numero 664, alla nostra sinistra, si accenderà esattamente adesso. Aspetta, 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 aspetta. Il numero 672, si accenderà adesso. Aspetta, aspetta. Il 671, adesso. E quella è la nostra gallina dalle uova d'oro. Oh, molto promettente. L'hai detto. Sì, è carica. Tutta roba di primissima qualità. Stereo, videoregistratori, giocattoli. Magari anche un bel mucchietto di gioielli assortiti. O meglio ancora dei contanti. Io non capisco. Adesso sembra che non ci sia nessuno in casa. Ieri sera invece c'era qualcuno. Qualcosa non quadra. Va a dare un'occhiata. Adesso? No, domani, cretino, adesso! Coraggio! Adesso! Barb! Barb! Che bella casetta! Però non c'è il bagno! Allora, qual è il piano? Il piano è che dopo la chiusura di questa baracca, noi la faremo da padroni! E poi che facciamo? Vuotiamo tutte le casse e ce ne andiamo come se niente fosse. Sempre più geniale, Harry! Come vuoi entrare? Dalla porta di servizio? Forse ci fa entrare lui, non si sa mai. Sì, è un bambino. I bambini sono stupidi. Buon Natale, signorino! Lo sappiamo che sei lì e anche che sei solo! Su, sei bravo ragazzino, apri! C'è Babbo Natale e il suo polletto! Non vogliamo farti del male! No, no! Abbiamo dei bei regali per te! Ora fai il bravo bambino e aprici la porta! Oh, oddio! Che dolore! No, no! Raudo! Oh! Oh! No! Oh! Ah! Oh! 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 Harry! Sto arrivando! Marv! Harry! Perché ti sei tolto le scarpe? E tu perché ti sei vestito da gallina? Harry! 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 Eccoci qua, Marv! New York City! La terra delle opportunità! Senti questo odore? Sì! Sai cos'è? Pesce! È libertà! No, è pesce! È libertà! Libertà e soldi! Ok, è libertà! Usciamo di qui prima che qualcuno ci veda! E' patient!